Ora spieghiamo la tecnica di sottomissione che si chiama Kimura dalla posizione di guardia chiusa appena il mio avversario mette una mano a terra vado ad afferrare il suo polso con l'altro braccio vado a infilarlo dentro al braccio suo e vado a chiudere con la mia mano sul mio polso da questa posizione porto la sua mano dietro alla schiena andando col mio busto stavo frontale devo passare a questa posizione qua da questa posizione devo passare a questa posizione qua quindi presa del polso infilo il braccio con la gamba faccio pressione sempre sul suo corpo porto il suo polso verso il suo collo il suo polso verso il suo collo il suo polso devo portarlo verso il suo collo uno con questa faccio pressione questa sta sempre alta perché se la lascio bassa lui mi scavalca con la gamba questa sempre alta questa fa pressione e questo lo porto verso il suo collo è un po' che fa è un po' che fa è un po' che fa